E bentornati alla Notte alla Minerva, Charles Robert Darwin, Shresbury 1809, Kent 1882, biologo e naturalista inglese. On the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life. L'origine delle specie attraverso la selezione naturale, ovvero il mantenimento delle razze favorite nella lotta per l'esistenza. L'opera principale del fondatore dell'evoluzionismo. La teoria evolutiva è incentrata sui concetti di selezione naturale e di struggle for life, lotta per l'esistenza. La lotta tra gli individui è scatenata dall'eccessivo aumento della popolazione e dalla conseguente scarsità di risorse disponibili. Ditemi voi se non sembra scritto oggi. Le possibilità di sopravvivenza di un soggetto dipendono dalla propria capacità di adattamento alle condizioni ambientali. Gli individui che meglio sapranno adattare i propri caratteri all'evoluzione ambientale trasmetteranno questi caratteri ai propri discendenti. E questa, signori, così è se vi pare, è la selezione naturale. Darwin ricava i fondamenti empirici dell'evoluzione degli ambiti, fino a quel momento scarsamente indagati, della paleontologia, della biogeografia, della morfologia e dell'embriologia. La pubblicazione dell'opera susciterà enormi polemiche da parte degli scienziati tradizionalisti e dei teologi, per i quali la negazione della fissità delle specie comporterebbe sia l'abbandono delle tesi creazionistiche della tradizione biblica, sia l'abolizione della fede nella presenza di un disegno divino della natura. Ovvio che Darwin propone una visione laica naturale dell'origine, dello sviluppo della specie, assolutamente intollerabile per qualsiasi visione religiosa.